Eccoci amici, ben trovati, l'appuntamento con l'informazione di TeleIblea. Voi sapete che noi abbiamo il nostro giornale online che si chiama Rete Iblea. Quindi TeleIblea e Rete Iblea sono i due punti di forza del gruppo editoriale. Allora oggi sul sito di Rete Iblea, che funziona come giornale online, poi TeleIblea funziona più come ressoconto della televisione. Nel sito c'è questa prima pagina, come vedete, che c'è scritto tra aumenti dei biglietti e ritardi, come pensiamo, di fare turismo. Perché c'è questo articolo? L'articolo è che in Sicilia nei siti archeologici tipo Siracusa e Taormila sono aumentati a dismisura i prezzi del biglietto d'ingresso. Ora non so se questo è merito dell'assessore Samonà, lo vorrei anche capire. Perché io credo che per vedere il teatro greco di Siracusa 10 euro sono anche abbastanza significativi. Insomma è una bella cifra 10 euro. E lo stesso pensavo per vedere il teatro greco di Siracusa. Con tutto il parco, ma naturalmente voi sapete che la gente va a vedere il teatro greco, poi le altre cose ci sono, e costava 10 euro. Ora improvvisamente, diciamo all'inizio dell'estate, il prezzo è passato a Taormila da 10 euro a 13 euro. E a Siracusa da 10 euro a 16 euro più 50 centesimi per l'acquisto online. Cosa voglio dire? Voglio dire che mi sembra una cifra alta. Perché sì, è vero, la cultura bisogna mantenerla, bisogna fare che i sistemi funzionino, che i bagni ci siano. È come se vai a vedere ad Agrigento, non ci sono neanche i bagni sopra. Quindi tutte queste cose hanno un senso se poi l'organizzazione è davvero all'altezza. Purtroppo non è così e io ho raccolto la lamentela di molti tour operator che dicono che avevamo fatto i prezzi all'inizio dell'anno per lanciare i pacchetti. Ora ci troviamo con questa differenza. Ci fa che vuole che sia 6 euro e 9 euro in più. Ma 9 euro se uno, grazie a Dio, riuscisse a portare 500 persone in più occasioni, capite che i 10 euro fanno 5 mila euro. Sono cifre che un tour operator sopporta con grande difficoltà. Allora dico, ce la fa Samonà a fare questi discorsi ascoltando la politica del turismo, ascoltando il turismo e i beni culturali. Dice, ma noi abbiamo i soldi per mantenere le strutture. Ma non funziona così, perché più si costano e meno gente ci va. Che poi c'è tanta gente che dice, ma io sai, come dire, non ando a mangiare e non mi vedo queste cose. L'altra cosa riguarda il treno da noi. Oggi ho letto una notizia che dovevamo mettere sul rete eblea, che si vuole incentivare questi percorsi a piedi, proprio i camminate. Il trekking, ma sono delle camminate per collegare più paesi piccoli. Io dico, è bello, non c'è dubbio, ma perché non facciamo qualcosa per il treno? La scorsa settimana un ragusano, un giovane ragusano, ha detto, ora me ne vado a Palermo e siccome, mia madre, non vuole, ci vado con il treno. No, ci vado con il treno. C'è scritto 4 ore. Per andare a Palermo, se vi fate i conti, guardate, 4 ore sono abbastanza, diciamo, giuste, perché con la macchina è impiegata di un'elettrona e mezzo, ma c'è il rischio, ma invece vado bene in macchina. Bene, è diventata quasi un'odissea. Sono andati alla stazione, non c'è biglietteria, né aperta né macchinette, dice, ma lo puoi fare col telefonino? E se uno non lo sapesse fare, se uno non fosse bravo a farlo, allora che fa? Non parte? E questa è la prima magagna. La seconda, il treno non era il minuetto, ma era la littorina, la nostra cara vecchia littorina. Allora perché dite i minuetto ci sono, non ci convincete la gente ad andarci, e poi invece c'è la littorina degli anni 50? E questo è uno. La littorina arriva già con 30-20 minuti di ritardo e acquisisce altri 20 minuti di ritardo prima di arrivare a Caltanissetta-Xilbi. Che succede a Caltanissetta? Bisogna fare il cambio, perché si passa dal treno che viaggia, diciamo, a diesel, la littorina, con i treni che vanno invece elettrico sulla linea Catania-Palermo. Sono arrivati con quasi 40 minuti di ritardo, l'altro treno non li ha aspettati, e vi pare anche giusto, quindi questi ragazzi hanno dovuto andare fino a Palermo con un pulmino messo lì a disposizione, pergiunto un po' scassato, le porte non si aprivano, il traffico sono arrivati un'ora e mezza dopo. Ma allora a che serve pubblicizzare i percorsi a piedi se non riusciamo a fare funzionare un treno? Io questo mi chiedo. Allora l'assessore Messina, l'assessore Samonà, questa gente che parla ma che poi non riesce a costruire, anche con Messina qualche giorno fa aveva avuto la stessa discussione, voi parlate ma poi in verità i problemi non vengono risolti, dai problemi nelle vecchie città, ai problemi dei collegamenti, perché il treno non funziona? Perché non permette a quelli di Palermo di venire a Ragusa senza avere la macchina e così via. Questo è uno dei grandi problemi di questo nostro territorio. Io direi che il sindaco o chi per lui dovrebbe andare a discutere di queste cose con la regione. Intanto voi sapete che la regione ha qualche problema anche di giunta, chissà se tiene Samonà, perché di quello che sta facendo la Lega forse Musumeci si mette i vestiti alla storta, come si suol dire, e pensa ad un rimpasto di giunta, perché giustamente non può avere dentro qualcuno che gli leva le scappe sotto i piedi, è chiaro che quello che ha detto Nino Minardo, o meglio, quello che ha detto Salvini sul Nino Minardo, è chiaro che Musumeci dice ma allora voi con me non ci volete stare e io rifaccio la giunta. Non so con quale forza e con quale speranza, perché ormai questo governo è ormai perso, mucato come si suol dire, quindi non so come, forse sarebbe meglio di metterci ora e fare più presto le elezioni piuttosto che fare questo anno di sofferenza. Ma questo ovviamente non lo farebbe nessuno dei deputati. Però noi facciamo molta promozione, che è quella del Giro di Sicilia. Vi faccio vedere un minuto, non di più di immagini, di questo secondo arrivo del Giro di Sicilia, con il suo audio, poi torneremo a parlare. Vediamo. Grazie. 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 Grazie.